La diretta. Ma la sapiente. La sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare un sapiente. Lei è iscritto alla Ladi, alla disoccupazione. Sì. Da quanto tempo? Di persone, anche di partiti politici. Questa terna è stata inventata di sana pianta. Discuta di questi che sembrano una volta dei massimi sistemi, ma che poi... Grazie a tutti.